Camminare insieme è il podcast della comunità diocesana di Reggio Calabria Bova, che ti propone le riflessioni dell'arcivescovo Fortunato Murrone. Buongiorno e buona domenica. Da questa domenica e per le prossime quattro saremo accompagnate dal capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. In questo Vangelo il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia è sostituito da quello della lavanda dei piedi, il capitolo tredicesimo di Giovanni, che è bene tenerlo presente come sfondo interpretativo di quello che ascolteremo in questa domenica. L'evento della moltiplicazione dei pani nei Vangeli è testimoniato per ben sei volte. La descrizione dell'episodio è interpretato dalla prima comunità ecclesiale come il dono profetico del pane eucaristico dato da Gesù ai Suoi nella notte della cena pasquale prima della sua morte. Giovanni accentua questa lettura eucaristica e narra l'avvenimento non come un miracolo, ma come segno che annuncia e sintetizza il dono dell'esistenza di Gesù. Parola di vita, che nutre la vita. Cioè cibo che sazia la fame di giustizia, di amicizia, di solidarietà, di lavoro, di casa, di accoglienza, di amore di cui tutti noi umani sono, siamo, bisognosi e mendicanti. Ma di fronte alla moltitudine che ha fame di pane, dei diritti sociali, di assistenza sanitaria, di migrazione per un futuro più umano per sé e per i propri figli, che fare? Ecco, Gesù sente e comprende la fame umana del pane, simbolo adeguato della povertà, del bisogno, ma anche della convivialità e della gioia umana. Prende a loro l'iniziativa coinvolgente e provocando i Suoi discepoli dove comprare pane per tutti. Si compra forse il pane che sazia il cuore umano? Ma il dove, il dove del Signore è in realtà il luogo del cuore aperto e solidale. La soluzione al quesito postato a Gesù viene da un ragazzo che offre quel poco che ha cinque pani d'orzo, pane dei poveri, pane cioè di coloro che sanno condividere anche le briciole. Gesù, il Signore, contando sul gesto gratuito il ragazzo, può allora agire e nessuno è escluso della mensa, anzi, ne avanza. Questa è la Chiesa, sognata e voluta dal Signore che profuma di pane eucaristico, di quella mensa dove di pane ce n'è per tutti, ma proprio per tutti. Buona domenica. Hai appena ascoltato Camminare insieme? Se non lo hai ancora fatto, iscriviti a questo canale podcast per non perdere nessuna delle riflessioni dell'Arcipescovo Fortunato Morrone. Se vuoi approfondire questi o altri temi, ti invitiamo a visitare il sito avveniredicalabria.it, il quotidiano online a cura della redazione dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Reggio Calabria Bova. Grazie. 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 Grazie.